Siamo sempre qui dal Baby K di Punta Marina Terme in questa bellissima location per parlare appunto di Baby K Salsa and Friends e ho qui di fianco a me Giuseppe Furino che è uno degli organizzatori, anzi il napoletano come lo definiva prima Max Trepicchio. Ciao Giuseppe, un piacere ritrovarti. Ciao Tiziana, un piacere tutto mio. Allora che cosa ci racconti di questo evento? Allora questo evento, intanto ti saluto, era da tanto che non ci vedevamo ma ci conosciamo da tanto. Perché lui era piccolino, lui era piccolino. Questo evento è nato dall'idea di voler fare qualcosa di nuovo, di voler dare una scossa un po' all'ambiente qui a Ravenna e grazie a Max, artista ormai da tanto che ha giàato il mondo e a Giancarlo abbiamo pensato di creare questa cosa e il Baby King si presta a 360 gradi perché discoteca, aree dedicate agli stage. Poi è una location che comunque è molto conosciuta dai giovani ai meno giovani proprio per la musica, quindi siamo proprio di casa qui. Quindi parlavi di stage, raccontami un po' come si svilupperà. Allora il tutto praticamente ha inizio ormai a breve, alle 4, alle 16 di oggi iniziano le attività, quindi abbiamo gli stage fino a sera, dopo di che c'è la cena e ci sarà la serata latina dove si ballerà con una serie di spettacoli, quindi ci saranno diverse scuole della zona e non, tanto vero verranno dalla Lombardia e dalla Puglia per effettuare spettacoli e gli stage e domani mattina dalle 9 iniziamo con le attività proprio legate anche al corpo con il Pilates per portarci poi a fare le attività del ballo fino a pranzo, pausa pranzo rapida, pomeriggio fino a sera di nuovo, serata e domenica uguale fino alla pausa pranzo che poi facciamo un'oretta e pomeriggio e ci spostiamo a fare poi un aperitivo tutti insieme sperando nella clemenza del tempo. Che sicuramente vi compiacerà perché sono bellissime, saranno tre giornate davvero intense e piene di tanta energia positiva, quindi non ci può essere nulla di negativo in queste tre giorni. Un programma molto serrato, vogliamo che la gente si diverta e ti approfitti per imparare. Un programma molto serrato quindi se qualcuno pensa di fare il riposino dopo pranzo qui no, qui no, ragazzi mi dispiace, da lunedì si può riposare da lunedì andate in ufficio a lavorare per riposarvi giustamente. Prendete poi tutta la settimana di vacanza per riprendervi dalle ore di lavoro e di ballo che farete qui al BB King. Quindi mi permetto visto che sei tu che ti occupi di questa cosa sarà salsa cubana, salsa portoricana, vari stili baciata, sì per tutti, per tutti, vari livelli, avremo di tutto, veramente di tutto, passeremo all'afro, alla rumba, faremo di tutto, sì, cercheremo di dare un ampio ventaglio di attività per cercare di accontentare un po' tutti. Perfetto, allora io ringrazio Giuseppe che ci ha così caldamente illustrato questa tre giorni qui dal BB King, Salsa & Friends, ovviamente vi aspettiamo, vi ricordo di collegarvi sul sito, sì sulla pagina Salsa & Friends, perché così avete tutte le informazioni, oppure se volete venire, mi dicevano, ti aggiungo scusami, che qui c'è proprio la postazione, c'è l'info point, così potete iscrivermi direttamente da qui, semplicemente entrando al BB King, allora grazie, ti lascio andare perché adesso dovrai prepararti, sì ormai ci siamo quasi, siamo qua in fermento e poi niente, rimanete sintonizzati sulla nostra pagina perché continueremo a regalarvi queste pillole di divertimento.